L'Inter torna sola in testa alla classifica, il Napoli scivola dopo più di cento giorni, la Fiorentina si rianima, la Roma si fa raggiungere al momento nella doccia e la Juventus vince la quinta consecutiva, poi c'è il Milan che non batte il Carpi mentre il Sassuolo passeggia sulla Sampdoria obbliga Montella a una serie di riflessioni, esordio con sconfitta per Del Neri a Verona, sempre più critica la posizione di Ballardini a Palermo dove l'allenatore potrebbe pagare anche l'illiminazione dalla Coppa Italia contro l'Alessandria, Diachite dimentica che a calcio si gioca con la palla e il Chievo vince a Frosinone, l'Inter batte il Genoa e diverte San Siro senza i cardi, spesso fermo ad attendere palla, la squadra tutta muscoli di Mancini si trasforma in un'orchestra che suona una musica piacevole, di gol ne arriva uno solo ma le occasioni sono state create, la Juventus venerdì aveva lanciato un messaggio a tutti chi vorrà vincere lo scudetto dovrà fare i conti con la squadra di Allegri, solida e cinica la Juventus ha amministrato il vantaggio mentre la Lazio si agitava per creare occasioni che si infrangevano a 30 metri dalla porta, se la Roma ha gettato due punti contro il Toro il Napoli ha regalato i primi 25 minuti di partita al Bologna che ne ha approfittato segnando due gol, forse però sarebbe meglio dire che Donadoni ha chiesto di pressare, di non lasciare ragionare l'avversario e di colpire appena possibile, prova straordinaria per il Bologna e rientro in gruppo dopo essere stato a lungo ultimo. Il Milan non segna contro il Carpi ma la partita non è di quelle che si conservano nel videoregistratore, se i tifosi possono recriminare per la mancata concessione di un rigore su Luiz Adriano, Mijajovic invece deve chiedersi perché la squadra abbia giocato così. Piace il Sassuolo che azzanna la Sampdoria, squadra senza anima e di entità, a metà strada tra la creatura di Zenga e quella che vorrebbe Montella.